Ilenia Scudeti Ha già imparato anche, in genere questo si fa a teatro, no? Che si chiamano due o tre volte gli artisti in modo che c'è più applauso, c'è più pados, quindi vuoi stare accanto a noi, il titolo della sua canzone è Accanto a te, prego Ilenia Scudeti A cosa serve star lì, ti guardo mentre aspetti un altro lunedì Ehi, la vita gira così, ma se tu non reagisci, non resta niente qui E se lui vuole andarsene via, ti basta sapere che io resto accanto a te Vorrei che tu riuscissi a vedere quanto bella sei Così, anche tra queste lacrime, la vita è tutta da scoprire Non è la fine se lo vuoi, puoi ricominciare a ridere E che bella sei Adesso prova a immaginare Come sarebbe lasciarsi un po' andare Niente più giorni da sprecare Niente più giorni da sprecare Non serve un uomo per sentirsi migliore Vorrei che tu riuscissi a vedere quanto bella sei Così, anche tra queste lacrime, la vita è tutta da scoprire Non è la fine se lo vuoi, puoi ricominciare a vivere E anche se ancora gli vuoi bene C'è una cosa che devi imparare Che al primo posto ci sei tu Solo tu, solo tu E si può ancora costruire Son sicura che ce la puoi fare Io rimango qui vicino a te Qui per te Qui per te Qui per te Qui per te Che bella sei Che bella sei Vorrei che tu riuscissi a vedere quanto bella sei Così, anche tra queste lacrime E la vita è tutta da scoprire Non è la fine se lo vuoi Puoi ricominciare a vivere E che bella sei Ooh, 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 oh, i eh, eh Ilenia! Ilenia, è toccato a te aprire questa non edizione Ilenia, il Eistasco. Ci hai raccontato in musica che quando una persona magari che tu ami, che ti sta particolarmente a cuore è in difficoltà Tu ci tieni a farle capire che le sei accanto a sostenere più che altro io volevo farle capire con questa canzone che comunque è un aiuto che volevo darle che quando noi siamo in una relazione con qualcuno alle volte pensiamo di non essere niente senza quel qualcuno e invece non è così perché noi siamo abbastanza già da noi, da soli quindi che ce la può fare perché lei è abbastanza grazie del messaggio, grazie grazie Ilenia e ci vediamo più tardi